E' bella a tutti ragazzi e ben ritrovati su Mavic Channel, sono il vostro Mino e vi avevo promesso un nuovo tutorial su degli altri minigame a 75 iscrizioni ma non ci siamo arrivati dopo un mese e vabbè ve lo faccio prima. Ma ragazzi oggi andiamo a visitare questo server, Hypixel Minigame, le Hypixel sono abbastanza famose come vedete qua sotto, ci sono alcuni giochi molto famosi che la Galaxy War è quella fatta dagli Eternal Love, ve lo dico cioè io seguo loro e loro la fanno quindi io l'ho vista da loro che è molto bella. La Build Battle fatta da JC e Ladyfra dei Game Grabbers ma ci sono moltissimi altri giochi dentro come The Blocking Dead sempre fatta da JC e Ladyfra e la TNT Tag cioè quella dove ti attaccano addosso la TNT e diciamo una specie di acchiappino fatta da Stepney, Surry e Vegas che anche loro li seguono. Ora come facciamo a giocarci anche noi? Ve lo dico subito, basta inserire questo server, questo indirizzo, scusate, questo indirizzo IP mc.hypixel.net Poi lo chiamate come vi pare. Dov'è che lo prendiamo? Semplicemente da questo sito, appunto, hypixel.net e vi dice, vedi, server IP, questo. Voi non lo copiate, cioè però non lo copiate così in maiuscolo, lo copiate come ho messo io mi raccomando eh, perché in maiuscolo ho provato ma non funziona, quindi dovete farlo così, in minuscolo, così eh, minuscolo. E credo, credo, credo è che anche questo sia un server per premium, non lo so se funziona, io sono premium quindi non l'ho mai provato eh, con Minecraft SP, provatelo, se poi mi dite eh, basta, mi dite, meno non funziona, così almeno lo comunicherò nel prossimo video. Andiamo a vedere com'è questo server e siamo dentro l'ipixel. Come vedete, siamo dentro, guarda, il server si sta caricando, se clicchiamo qua ci sono tutti i giochi, TNT Tag, e vi fa vedere, attenti, se non lo trovate subito, i giochi, sono divisi in categorie, quindi come vedete nel DTNT Games ci sono dentro molti giochi, quindi cercateli a modo, oddio aspetta, qui non si vede perché c'ho lo schermo piccolo. Si vede un pochino di meglio, sì. Qui ci sono molti altri giochi. Paintball, eh, Arena, oddio cos'è quello? Boyle Battle, ecco questo qua, quello nuovo, questo è quello dove devi costruire la cosa che ti viene indicata. E Galaxy War, eccoli qua, qui sono i tre giochi. Poi l'altro era, Blocking Dead, Blocking Dead, vediamo un po' se si trova, così almeno vi faccio. Eccolo qua, The Blocking Dead, è qui, ecco anche Boyle Battle, ah, Arcade Games ci sono tutti. Quindi i giochi sono tutti qua, basta cliccare appunto, come ho detto, sul destro, con il destro del mouse sulla bussoletta, e potete spostarvi nelle varie stanze e fare giochi. Detto questo, ragazzi, ho fatto vedere che il server funziona, ci vediamo nei prossimi video, e mi raccomando se volete giocare anche a altri minigame spolliciate, e iscrivetevi. Se arriviamo a, diciamo, dai facciamo 100 iscritti, facciamo un nuovo tutorial, e quindi un altro server ancora. Ce ne abbiamo tantissimi, eh, ragazzi. Quindi più vi iscrivete, più serve, vi facciamo vedere, e quindi anche come giocarci. Ci vediamo nei prossimi video, mi raccomando, iscrivetevi, commentate, guardate anche le altre cose nel canale. Ci vediamo nel prossimo video. Qui da Mina è tutto, Mavic Channel, linea allo studio.